Con l'inaugurazione del quarto lotto la nuova strada regionale 429 aggiunge un altro tassello fondamentale per un'opera tesissima nei territori della Valdezza e dell'Empolese, il cui valore complessivo supera i 100 milioni di euro. Questo tratto di 5,7 chilometri va dalla rotatoria di Dogana nel comune di Castelfiorentino alla rotatoria di Casenuove nel comune di Gambassi Terme. È costato 15 milioni e 700 mila euro, di cui 15 milioni tratti dalle risorse del patto per Firenze e 700 mila euro messi a disposizione dalla regione toscana. I lavori, a attesi da 20 anni, sono ripresi nel 2016, quando è subentrata la gestione commissariale della regione toscana, che ha dato concretezza e ritmo ai lavori, arrivando in pochi anni a vedere il traguardo per la realizzazione della SR 429. Direi è proprio una giornata storica. Io mi trovo a vivere questo momento così importante senza averne merito, perché naturalmente sono presidente da due mesi e chi dobbiamo ringraziare è soprattutto la regione, nella persona di quello che è stato assessore Ceccarelli fino a tre mesi fa e che tanto si è prodigato, perché questa è una strada regionale e quindi l'appalto, i lavori, lo sviluppo dell'idea è proprio fonte del mandato di Vincenzo Ceccarelli e i sindaci, a partire dal sindaco del territorio che stamani vedremo aprirsi al pubblico, Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e devo dire che con lui il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, perché siamo nel tratto della strada che la 429 da Empoli porta alla Valdelsa Senese. Devo dire che vi è anche un significato, perché questa strada a un certo punto sembrava bloccarsi di fronte a fallimento di imprese, a controversie giuridiche, occorse un atto di coraggio per commissariare, cambiare metodo di azione, avvalersi di altre imprese e arrivare ai risultati cui oggi siamo arrivati. Questa strada favorirà tutto il territorio, garantendo più sicurezza agli automobilisti e minor tempo per raggiungere le varie località. La gestione regionale ha permesso di fare della SR 429 una strada di importanza logistica strategica, unendo il tracciato concertato e poggibonzi e collegandolo di fatto con la FIPILI e con la Firenze Siena. Strada regionale, noi sempre più vivremo questa dimensione, ovvero la capacità della regione di entrare direttamente nella realizzazione senza doversi avvalere di altri enti statali o di altra natura, perché riteniamo che le infrastrutture siano elemento centrale nella modernizzazione della Toscana post-Covid. Devo dire che ormai questo pezzo rende competitivo per chi viene da Siena e vuole andare sulla costa a Pisa, passare proprio di qui. Fino ad ora, ve lo dico da automobilista, da Siena meritava arrivare a Firenze e fare quel pezzo di autostrada e riprendere la FIPILI. Con questo pezzetto, secondo me, sul minuto noi vedremo rendere ancora più competitiva la 429. Adesso manca il terzo lotto che collegherà la rotatoria di case nuove fino a Certaldo. Sarà costruito con un appalto semplice regionale, senza quindi il commissario, come invece accaduto nei precedenti quattro lotti. Sono 30 milioni di euro di investimento, è completamente finanziato, siamo in fase di gara, saranno affidati i lavori entro questa primavera e l'opera sarà, speriamo, se tutto va bene, se non ci saranno contenziosi e problemi di diversa natura entro il 2024. A quel punto quest'arteria sarà completamente definita e questo per un vantaggio non solo per questo territorio ma per tutta la Toscana. Nel 2024 quindi il tracciato dovrebbe essere completo. L'assessore regionale alle infrastrutture Baccelli ha sottolineato che nel suo mandato si punterà anche sulla manutenzione delle strade. Nel nostro programma di governo intanto c'è una priorità fondamentale che non riguarda nuove strade, ma che riguarda la manutenzione e prima ancora il censimento. È un sistema di diagnosi che ancora non c'è, non solo in Toscana ma in tutta Italia. Grande paese di costruttori ma ancora senza una cultura della manutenzione e casi del ponte Morandi di Genova, tragico piuttosto che di quello comunque drammatico del ponte di Aulla, insegnano. E allora noi prendendo spunto da una task force che già ha fatto un'analisi speditiva di 150 infrastrutture strategiche sul territorio della regione Toscana, ponti, viadotti e cavalcavie che ha previsto un primo finanziamento di alcuni decine di milioni di euro da parte della regione su ponti di proprietà della regione stessa, quindi su strade regionali. Vogliamo invece fare un censimento e in collaborazione ovviamente col Ministero delle Infrastrutture di tutto il patrimonio di strade, ponti e viadotti di tutta la Toscana, cioè non solo quelli di proprietà della regione ma di proprietà delle province e di proprietà dei comuni. La strada del nuovo lotto attraversa dolci colline passando da tre gallerie, il tratto a corsie e banchine di larghezza rispettivamente 3,75 e 1,50 metri. Il ponte sul rio Petroso è stato realizzato con strutture in acciaio corten, accampata singola. Le gallerie, in parte già realizzate durante la precedente gestione provinciale, sono state completate con illuminazione struttura estesa di pavimentazione ignifica. Il fondo stradale è fonoassorbente e garantisce maggiore aderenza. Quando sono diventato sindaco nel 2014 da cittadino, da castellano, la cosa che mi addolorava di più era sentire una comunità sfibrata, in cui regnava la sfiducia. Quest'opera aveva ammazzato lo spirito di tanti castellani e è sempre stato straordinario, uno spirito laborioso, orientato al futuro, innovatore e questo era stato ammazzato da tante cose, in primis da questa strada che non arrivava mai e che ha non soltanto comportato problemi per le popolazioni che stanno sul vecchio tracciato, perché lì ci hanno sofferto tante famiglie, hanno avuto morti in casa purtroppo dal passaggio del traffio pesante, ma anche dal fatto che la mancanza di queste infrastrutture ha fatto sì che tante imprese o chiudessero o trovassero collocazioni altrove e fosse più difficile rilanciare i circuiti virtuosi dello sviluppo di queste zone industriali. Quindi puoi capire che questo messaggio è un messaggio di speranza e di gioia per un'intera comunità che chiude una pagina di 13 anni di sofferenza e ne può aprire una nuova. Regista di queste operazioni che hanno portato in quattro anni alla realizzazione dei quattro lotti su cinque della SR429 è stato il commissario Alessandro Annunziati. Il presidente Gianni e i sindaci del territorio hanno lodato sia Annunziati che la formula del commissario, una formula che ha permesso di portare a termine un progetto che aveva subito troppi stop per rallentamenti. Ma è stata un'esperienza sia umana che professionale direi unica, direi straordinaria perché un così alto livello di concertazione e convincimento da parte della politica e della tecnica non si era mai visto. Questo diciamo quando si parla di modello 429 oggi i nostri sindaci e il presidente l'hanno rappresentato bene. È un modello in cui la parte tecnica e politica si incontrano, dialogano e risolvono i problemi. Con il completamento del terzo lotto previsto entro il 2024 la SR429 sarà completa e a quel punto la 429 vederla in un filo di continuità, di grande strada di comunicazione dalla vitale realtà di Colle Valdelsi a Poggi Bonzi fino appunto a Empoli perché possa connettersi alla strada che è oggi la FIPI lì. Contemporaneamente quello apre le porte per la dorsale verticale del centro della Tostana, quella che da Montecatini possa attraverso la 436 in strada di grande comunicazione arrivare fino a Siena, proprio tagliando la verticalità della Toscana. Oggi abbiamo solo assi orizzontali e quello sarà l'ulteriore passaggio che vivremo in questa legislatura, abbiamo messo già delle risorse perché questo avvenga con gli interventi nella zona di Lamporecchio.